Il lavoro è stato andato in un modo migliore, la squadra che lavora bene, che è un cultore del lavoro, cerco di mettere in pratica le cose che facciamo durante questi primi 10-10 giorni di ritiro, strada da fare ne abbiamo ancora tante, però la disponibilità al lavoro c'è, e questo è importante. Quattro reti stasera tutte nella ripresa? Dicevo a un suo collega che paradossalmente mi è piaciuto molto di più il primo tempo del secondo, magari quello che abbiamo fatto nel secondo, perché nel primo tempo abbiamo delle opportunità create da situazioni che cerchiamo di sviluppare, poi magari siamo stati imprecisi negli ultimi 20 metri, però abbiamo costruito le occasioni migliori attraverso l'idea di primo tempo, soprattutto. Novità, sono arrivati Costa e Camporese, gli ultimi due innesti nel reparto arretrato a giurto. Beh, giocando così eravamo corti, io spero che entrambi ci possano dare una mano per raggiungere il nostro obiettivo. unfortunately Bass Podcast. Grazie. Grazie. Grazie.